Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Siamo qui oggi a parlare dell'ultima fatica di DICE, ovvero Battlefield V. Gioco, ricordo, essere ambientato nella Seconda Guerra Mondiale ed un'uscita per PC e per tutte le console dal 21 di questo mese di novembre. Il gioco è interessante, è un nuovo Battlefield, per certe meccaniche si torna indietro nel tempo e soprattutto, cosa che a me è piaciuta, come mossa commerciale di DICE, ma soprattutto dell'Electronic Cards e dell'IA, su PC, penso soltanto, sì, penso solo su PC per ora sia a disponere questa cosa, il gioco è già giocabile da nove giorni, quindi nove-dieci giorni prima dell'uscita perché con l'IA Access Premier, che sapete l'abbonamento a quello da 14 euro al mese, vi dà non solo la possibilità di provare il gioco in anteprima di dieci giorni, quindi una specie di Early Access, particolarmente buggato, però meglio ora che quando sarà uscito e ne costerà 60, e tutti i giochi, avete praticamente tutto il catalogo di Origin, tutto il catalogo dell'IA, tutto, da The Sims a Battlefront, Battlefield, e addirittura se terrete l'abbonamento anche i giochi che usciranno poi tipo Anthem e tutti i giochi che usciranno il prossimo anno. Battlefield ovviamente si va sempre né pro e né contro, e ve lo dico subito e ve lo chiedo, per favore non prendete mai questi video come recensione, non voglio vedere commenti, anche perché li vieterò, sia chiaro, categoricamente, non voglio vedere commenti del tipo, eh ma perché te ti ha fatto schifo, Battlefield non ti è mai piaciuto, o semplicemente non sai giocare, no, io cerco di fare un esame, un non mi piace nemmeno di recensione, un cosa ne penso, per quello che ho veramente, per le mie emozioni e per quello che ho avuto nel gioco, quello che il gioco mi ha comunicato, sia chiaro. Io sono un fanatico della seconda guerra mondiale, quindi già parto col piede giusto per un gioco del genere, rispetto a chi magari avrebbe preferito un Bad Company 3 ambientato nel futuro, cosa che a me poi non sarebbe piaciuta assolutamente. Partiamo esaminando i punti secondo me nevralgici, e anche la parte venuta meglio, fondamentalmente, di questo Battlefield V, che sono i punti a favore, per me, sono più rispetto a quelle a sfavore. I punti a favore sono, indubbiamente, un gameplay migliorato, quindi un'esperienza molto più ricca, un feeling con le armi, oh, finalmente l'hanno capito, ho capito che Battlefield 1, le armi della prima guerra non mondiale erano precise, soprattutto quella raffica, ripetizione, però, cioè, quello che lo usa è un soldato, quindi laddove l'arma fa un po' schifo, il veterano di guerra compensa un po' con l'esperienza, però, lasciamo stare anche questo, finalmente in Battlefield V, grazie a DICE, dove mi rivai il colpo. Ora, poi, ovvio, c'è armi più precise, ma con meno controllo, e così, o viceversa, quindi anche se l'arma è precisissima, ma, quando tiri i grafici, tende magari ad andare verso l'alto, verso il basso, lateralmente, comunque, lo sapete, un po', l'arma balla quando si spara, e quello è normale, c'è. Però, finalmente, voi sparate lì, il colpo va lì, o neanche sparate lì, il colpo va là, non si sa perché. Come Battlefield 1, e questo è il primo grandissimo punto a favore. Secondo punto a favore è il motore Frostbite, la grafica migliorata, che già quella di Battlefield 1 era il fotorealismo. Questa è ancora migliore, quindi una grafica della Madonna, che ci sta veramente bene. Cioè, l'esplosione addirittura, quando vedete i cosi, gli Spitfire degli inglesi, o gli Stuka dei tedeschi, di planare, sentite, mentre si avvicina, che ti cacchi addosso, proprio a farci l'occhio e l'arcello, e te lo vedi arrivare che mitraglia. È una figata. E finalmente, i veicoli la fanno da sovrani e da padroni, perché in Battlefield 1 eri dentro un car armato, non facevi in tempo, a partì sponata, arrivavano 3-4 orpi, due bombe, e una granata anticare, eri morto. Non facevi in tempo, a fa' due minuti, ora invece i veicoli sono potentissimi, e hanno fatto una figata. Per l'armata che perde, come in Battlefield 1, non c'è più, vi hanno dato un dirigibile, vi hanno dato un super car armato behemoth. No, no, no. Ora ci sono i mezzi della Seconda Guerra Mondiale, tipo, che ne so, vi faccio l'esempio, i tedeschi, partite con il Panzer III, come car armato, che hanno loro, e dopo aver fatto un tot di punti, vi dirà, adesso il Panzer VI Tiger è pronto. E quindi potrete sponare un solo Tiger al giro per la mappa, ma ragazzi, vi dico soltanto, che un car armato dell'inglese, il Matilda, delle truppe inglesi, che spara in faccia al Tiger, non gli fa danno, i colpi rimbalzano. Laddove è una vita che si dice, ragazzi, ma lo sapete che in Seconda Guerra Mondiale per forare un Tiger ci voleva un Flak, un cannone Flak da 88 mm, quindi non mi vengano a dire magari qualcuno che gioca World of Tanks, no, non è vero, quello è un videogioco, vai in un museo e vedrai che non era così. Altro punto lodevole, veramente anche qui ringrazio DICE, le War Stories, quindi il single player, che dura poco, 3-4 ore, però vabbè, comunque breve ma intenso, e soprattutto i DLC e tutti i contenuti che esceranno regolarmente tutti i mesi, massimo dilazionato in due, però completamente gratuiti, ragazzi, non c'è come Battlefront 2, non c'è un season pass, voi comprate il gioco in edizione normale, normale, anche non deluxe, e tutta la roba che uscirà voi ce l'avrete. Questo anche per evitare che quello magari c'ha il pacchettino espansione, c'ha più armi di voi, magari, tanto lo sappiamo, che qualche arma sarà sgrava, meno bilanciata, però ci avrà delle armi che voi non avete e questa cosa qui non succederà più, perché comunque sarete sempre pari passo e anche nel single player, tutte le campagne single player ci avrete tutto, senza spendere un euro di più e questo veramente è un encomio che li faccio, è lodevole. Come dicevamo, gameplay raffinato e tutto quanto, quindi quello ci sta veramente da paura grafica disumana, failing delle armi alzato, il tempo per ogni kill abbassato, perché comunque le armi fanno molto più danno e ci sta il fatto del medico importantissimo, perché il medico davvero è l'unico a quel punto che con l'animazione di due secondi ti può rialzare da terra, si possono trascinare i corpi saliati per terra ad un amico per portarlo via dalla linea di fuoco, cioè c'è delle cose, addirittura il supporto che costruisce le fortifiazioni sembra di giovar rust, bellissimo, e in più lancia i pacchetti munizioni alle truppe, perché veramente i colpi sono risicati, insomma una figata assurda. Però ora passiamo alle note dolenti. Le note dolenti, che poi potrebbero essere tante, ma io racchiudo sempre questa una, è che per quanto questo gioco abbia più feeling con Bad Company 2, quindi il battlefield più bello, perché chiunque di voi abbia giocato un battlefield e sia un fan, lo sa. Oh, è la verità ragazzi, Bad Company 2 è stato, e glielo dicono tutti, il vero capolavoro fatto da loro. Vi ricordo soltanto che in Bad Company 2 il cecchino non era quello che cecchinava, il cecchino non era quello che camperava, il cecchino non era quello che camperava e spottava, il cecchino era quello che stava nella posizione, si muoveva e chiamava il bombardamento aereo. Cioè il cecchino aveva un ruolo che era importantissimo, era quello, era gli occhi del team, ora invece è ridotto, sì, anche ora spotta, è vero, è già più bellino rispetto a Battlefield 1, ma ora il cecchino è un camperone messo lì, che vuole fare kill, facili, che poi facili non sono, sta lì, ferma tutta la partita e sta a cecchina. Sì, è vero che spotta un pochino, però sto cecchino e li dovete fa fare qualcos'altro. E poi, parlando sempre del gameplay, il gameplay raffinato e tutto quanto, però è sempre il suoto Battlefield, cioè corri bomba, corri salta, corri munizione, sì, è vero, questo è molto più strategico, questo è molto più tattico, è molto più di squadra, infatti poi le darò il mio voto finale, che comunque è buono come voto, però è sempre il solito Battlefield, cioè non cambia niente, c'è sempre l'aeroplano che OP, i carri armati che ora sono molto più OP di prima, le armi precisissime, come ho detto all'inizio del cosa ne penso, quando sparate il colpo va dove avete mirato col vostro mouse, quindi ora non è più come prima, ora quando siete sotto il fuoco nemico siete morti, non è come Battlefield 1 che ne vedete due che vi sparano correte a zig e zag tanto le armi fanno schifo e forse due colpi vanno a segno, ora ne andranno quattro a segno e tra l'altro due colpi di questi vi ammazzano perché le armi fanno molto più danno quindi sembra di giocare in modalità quasi veterano e questo è un altro punto a favore, non lo metto sicuramente nelle cose brutte, però è troppo, cioè ragazzi documentatevi quanto vi pare, come ho fatto anch'io prima di fare queste cose perché mi piace anche la seconda guerra mondiale, queste occasioni qui non capitavano mai, in seconda guerra mondiale, cioè in seconda guerra mondiale c'era una linea di fronte che le truppe prima di passarla perché avevano paura di morire tutto con i comandanti che ordinavano la carica all'ordine e tutto a parte vari eventuali aggiramenti ma nemmeno sempre stavano fermi anche i giorni, stavano fermi i giorni e l'operazione Overlord è durata veramente settimane, cioè l'attacco per prendere Carenton è durato la bellezza di due giorni, cioè non è che sono arrivati i bombe, correvano per strada ve lo moriva anche perché nella realtà mori una volta sola. l'operazione Market Garden è durata un casino di tempo, cioè sì c'erano le truppe che provavano ad aggirare il nemico a prenderle alle spalle però qui succede troppe volte su Battlefield, succede troppe volte che te sei fermo lì nella tua trincea che spari e te ne arrivano due dietro con la pistola ma come sono arrivati? Ma come hanno fatto a arrivare lì? Cioè ma da dove sono girati? Questo perché ovviamente le mappe sono troppo grandi e 60 player nella mappa 32 per parte quindi 32 che sono con te i 30 scusate che sono con te non possono essere ovunque in ogni singolo punto della mappa perché la mappa è troppo grande e poi se contiamo che magari c'è un punto qui un punto qui un punto qui in una distanza di due chilometri di mappa come cazzo fai a coprirli tutti e diventa impossibile quindi i leggeramenti sono all'ordine del giorno però non era così era una guerra di logoramento come nella prima guerra mondiale era una guerra di trincea era una guerra di posizione era una guerra di rubare le posizioni non era una guerra di sto lì a sparare ma arrivano dietro ma a cortella e io infatti sto iniziando a pensare una cosa io sto iniziando a pensare veramente parere personale spensierato che gli sparatutto siano la maniera peggiore per rappresentare le varie guerre dico questo perché nello sparatutto sa voglia di adrenalina sa voglia di sparare ragazzi sono con voi quando giocate a Verdun mi un po' mi rompeva dove stare fermo nella trincea sparare tre corpi ogni tre minuti e aspettare che il capitano desse l'ordine per attaccare però sì era più moscio sono durato poco forse era gioco che non faceva per me però mi ha calato nel contesto prima guerra mondiale roba disumana i giochi ci vorrebbe un gioco simulativo della seconda guerra mondiale che per ora ho visto fare soltanto a uno arma 3 iron front per arma 3 è uno spettacolo non solo perché arma quindi un simulatore di guerra con un colpo mori ma soprattutto perché lì era uguale lì si gioca molto di interpretazione lì se il comandante della truppa non ti dice di avanzare te rimani fermo e te nella posizione cioè non ci sono questi scugnizi che vanno a giro per rubarti la medellietta e ti danno una cortellata e poi sinceramente dice ma dove te lo sei sognata il tizio che corre con un fucile a pompa in mano in seconda guerra mondiale ma dove l'hai visto anche il film ma nemmeno Brad Pitt in conclusione il gioco non è assolutamente una merda e anzi se le devo dare un voto personale le do 6 più le do più della sufficienza io gli avrei voluto dare di più però il problema è che è il solito Battlefield di sempre dove ci sono 25 chi su 30 truppe ce n'è 20 fermi a camperà e il problema è che è sempre lo stesso ruba la bandiera riprende la bandiera per quanto la modalità prima linea già vista in Battlefield 1 e il Grand Operations sono state due giocate veramente interessanti perché vi fanno fare più modalità di gioco divisa in 3 giorni però se vi siete rotti le balle di Battlefield 1 se vi siete rotti le balle di Battlefield 4 o del 3 ragazzi lasciate perdere come vi dico sempre andate su Battlefield 3 o 4 che ormai la EA ve li regala sinceramente questo gioco rispetto a Battlefield 4 non ho visto novità è bello la grafica migliorata il Frostbite migliore il gameplay tutto quanto ve l'ho detto c'ho più lati a favore che a sfavore però è il solito Battlefield cacciarone dove trovate il nerd che ci sta da mattina a sera che gli piace fa leggeramente e tutto e lo vedete quanto premete Tab che ha fatto 58-12 ha fatto uno sbotto di kill e sta sempre lì camperato con il cecchino oppure sono livelli che te sei lì nella tua postazione che difendi con la tua squadra non si sa come arrivano da dietro e vi fioccano a Molotov in mezzo al gruppo e va a ammazza tutti ma da dove cazzo è passato visto oh ma nemmeno Vietcong nel Vietnam facevano queste cose qui quindi in conclusione io a Battlefield gli do un 6+, che per me è un gioco che può valere però fino a un certo punto il classico gioco cacerone perché l'Igharba gioca a Battlefield questa è la mia valutazione in conclusione ve l'ho detto non prendetela come le recensioni ma un cosa ne penso mi sento di consigliarlo soltanto al classico pubblico di Battlefield chi invece con Battlefield come me si è rotto le scatole ragazzi aspettate passate ad alto veramente fatevi qualche strategico che sarà sicuramente più consono per voi ragazzi se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento e ci vediamo al prossimo ciao belli alla prossima